Il vicepresidente e storico capitano dell'Inter Javier Zanetti quest'oggi è arrivato a Cappell sul Tavo per il progetto Leoni di Potrero. L'iniziativa come focus è la risoluzione delle problematiche legate all'isolamento sociale e alla difficoltà nello sviluppo corretto delle capacità motorie. E tantissimi gli appassionati sportivi accorsi al centro sportivo Time Out sito a Cappell sul Tavo per la visita di questo grande campione e vicepresidente Nerazzurro. Le sue parole sul campus e non solo. Javier Zanetti benvenuto in Abruzzo. L'accoglienza dei bambini vale già il viaggio. Bellissimo vedere questi bambini così contenti, felici, con grande entusiasmo, un'accoglienza fantastica e vi ringrazio di cuore. Lei è Cambiasso, un campus da campioni del mondo possiamo dirlo? Sì, un campus che soprattutto dedica a tutti questi bambini delle giornate piacevoli. Pensiamo soltanto a che loro si possano divertire, che è il nostro obiettivo. Lei, insomma, non ha bisogno di presentazioni, è un ampio conoscitore di sport. Cosa faranno questi bambini? Questi bambini si divertiranno prima di tutto. Dopo impareranno a giocare insieme, impareranno sicuramente i valori dello sport, che è molto importante. Insieme a noi cercheremo di che le sue giornate siano bellissime. Per chiudere con una battuta, come si fa ad arrivare col fisico di Javier Zanetti? Non c'è nessun segreto, soltanto mi piace allenarmi, gioco a padel, mi piace andare in bicicletta, un po' di tutto. Ci manteniamo perché lo sport ci fa sentire bene. Bellissima, la struttura è molto bella, credo che ci sono tutte le attrezzature per poter fare un grandissimo lavoro. Mi piace trovare la gente di qua, perché sinceramente è molto sensibile a tutto quello che facciamo, c'è un grande cuore e credo che questo è molto importante. Perché abbiamo delle conoscenze, abbiamo delle amici che ci hanno permesso questa opportunità, ci fidiamo di loro e credo che quando si lavora in squadra le cose si fanno bene. Senta, c'è un ricordo, qualcosa che magari la leggo con questa terra, anche con la città di Pescara? E questo è un momento a memoria, ricordo che anche con la stagione fantastica del 2010 cominciò con un trofeo team qui a Pescara e poi finì con noi sappiamo. Sì, speriamo che sia di buon augurio, però sinceramente Pescara è una città che ci ha grande entusiasmo e per questo ci piace venire qui. Anche perché adesso per una ruota di Pescara qui c'è anche una natale come Zeman che lei conoscerà. C'è, sì, è un grandissimo intenditore di calcio, sa tante cose e credo che Zeman ha lasciato un grandissimo ricordo qui a Pescara. Lei ha iniziato quel 2010 qui a Pescara, come sappiamo l'augurio è che possa finire. Ti lo auguriamo. Ovviamente non poteva mancare la presenza istituzionale del sindaco di Cappelle sul Tavo, Lorenzo Ferri. Emozionatissimo, veramente vederlo da vicino è bellissimo. Voglio ringraziare il centro sportivo Time Out per questa bellissima iniziativa, il capitano Iaver Zanetti, tutti i ragazzi che sono qui. Fabrizio si è impegnato, il proprietario, quindi siamo onorati di ospitare a Cappelle sul Tavo un'eccellenza del calcio internazionale, mondiale diciamo. A lui si aggiunge poi il cambiasso. Certo, sono due campioni quindi possono solo far bene al nostro territorio, ecco. Sono sportivi esemplari e uomini esemplari, quindi è importante averli qui sul nostro territorio oggi. E oltre all'esperienza sportiva, all'esperienza ludica ma anche di vita con personaggi del genere. Certo, basta vedere tutti questi ragazzi, oggi sono tutti emozionati, compreso a me che sono interista, quindi possiamo solo far del bene. La miss non è casuale. Sì, complimenti a tutti.